Forza Italia lo aveva già detto anticipatamente che non avrebbe votato la fiducia a governi tecnici di scopo, comunque qualificati che non fossero governi politici. A questo fine Forza Italia aveva anche dato il suo benestare all'interno della coalizione di centro-destra affinché si provasse a fare un governo politico per questo Paese, composto da un nostro alleato storico ed attuale, la Lega, e un movimento politico che continuiamo a considerare agli antipodi del nostro pensiero e rivale. Tutto questo con ieri mi pare che sia un capitolo chiuso, poi sarà la storia a giudicare le singole scelte. Io credo che alla fine una rigidità del Colle si sia scontrata con una rigidità dei partiti che evidentemente stavano lavorando a formare il programma o ritenevano che fosse un punto non negoziabile. Penso che adesso occorra un momento di responsabilità e di riflessione. Occorre che la crisi istituzionale che non va minimizzata, seria e profonda, non venga pagata dai conti correnti, dalle tasche, delle famiglie e delle imprese italiane.